Mi hai sballottato da Fender No, tu non vi hai sballottata da niente, decidi tu che cosa fare E quando mi accorgo che Fender mi cerca di passare, lo faccio passare Non ti accorgi niente, devi decidere tu Ah ok Indipendentemente da quello che fa Fender Entro in una stanza, dietro a Gaghe Mi faccio sballottare da Fender In caso... La mette davanti loro Tiro Fuovila lo lasciava e si viva una terapetana nel caso ci fossero... Cioè nel caso venisse troppo vicino Secondo me voi venite molto vicino Non mi possono vedere Ok Io non credo ci voglio provare No, no, ci dieci Voi mi siete dieci Quindi... Dovete fare qualcosa che comporti lo stare... L'avere due compagni davanti Io mi seguo l'asta Non fare battute Per te non me l'aspettavo Non so... Seguo semplicemente, segnavo di tutto Segniamo Hai sentito un brunito, un qualcosa Mi preparo alla pugna Ok Alla pugna Beh Spodo la spada dentro L'immaginavo Ma iniziativa Sì, sì, sì Meando, ho perso un dado Non sono andato così Volete il mio tiro Vai, vai Lorenzo Ma perché... Ah, è giusto Volete il mio tiro Cinque Ma tommeniamo fuori digitale Qualcuno ha trovato un dado... Un dado Un dado Un davvero Un dado Un dado Quanto vale a te? Un dado 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 Non 3 c'è tantissimi altri l'ho perso sicuramente qua che schifo spero di poterli usare tutti ma anche no eh continuate a perdere danni 9 chi è il primo? eh scusa ma ditemi i numeri ma cazzo 8 no niente 11 ehi sono fuori sì infatti noi non facciamo niente sì sì per adesso sono solamente loro due vorrei